La pagina sportiva del TG Noi in primo piano, la lucchese che si dimostra più forte delle avversità e delle penalizzazioni. I rossoneri non si fanno abbattere e vanno a vincere addirittura sul campo della pro-Piacenza. Vincendo a Piacenza la lucchese ha dato sul campo la miglior risposta sia alla penalizzazione sia alle assurde e infondate accuse della società nei confronti dei tifosi. Favarin manda in campo un solido 4-3-3 che alla lunga spezza il coreaceo pro-Piacenza di Gianni Chedda. Al quarto d'ora a Lombardo scalda i guanti a Zaccagno su punizione dalla distanza. Poi in una lunga fase di studio e battaglia a centro campo con pochi sussulti sia da una parte che dall'altra. Al 52 anche il pro-Piacenza ci prova su calcio piazzato, la sfera si perde sopra la traversa. Da qui però la gara si accende, Lombardo inventa un bel taglio profondo e Bortolussi ha la prima occasione per sbloccare. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere, passa dai piedi vellutati di Ledesma che mette sul primo palo una punizione da sinistra. La spaccata di Scardina esce non di molto. È passata da poco l'ora di gioco quando Sorrentino trova il gol partita, sfruttando una verticalizzazione centrale e calciando preciso alla destra del portiere. Una rete che scalda le mani ai 40 fedelissimi arrivati da Lucca. La reazione del pro-Piacenza non c'è ed anzi al settantanovesimo la lucchese sfiora il raddoppio. Traversone di Jovanovic che attraversa tutto lo specchio senza che Bortolussi possa arrivare alla deviazione vincente. Tre minuti e tocca a Sorrentino provarci dalla sinistra. Zaccagno è bravissimo nel primo intervento e anche sul tiro a botta sicura di Bortolussi sulla ribattuta. All'89 c'è gloria anche per Falcone che vola letteralmente a deviare un tiro a girare di Ahmed Cadi. La partita si chiude sull'1-0, una vittoria meritatissima per i ragazzi di Favarin. Sancita anche dall'ultima azione di Greselin che dopo aver seminato mezza difesa trova ancora Zaccagno sulla sua strada. Ancora il calcio con il consueto punto settimanale sulla Serie D. Il Giviborgo ormai stabilmente nelle zone alte della classifica vince anche il Seravezza con Rodriguez pari a reti bianche per Viareggio e Realforte. Vittoria interna del Giviborgo per 1-0 contro la San Giovannese grazie al gol del solito Ortolido, appena un minuto dal via, che spiana la strada alla squadra di Guido Pagliuca che adesso è seconda in classifica solitaria ad un punto dalla capolista tutto cuoio che ha perso lì in casa con il Cannara. Giviborgo che continua a sognare anche se il tecnico predica calma di mantenere i piedi ben saldi a terra. Ha sprecato un'altra opportunità di vincere il Viareggio contro il Prato impattando per 0-0 e non riuscendo a puggere in attacco dove l'assenza di Udo che ha avuto una ricaduta dopo l'infortunio si è fatta sentire. Sostituito l'attaccante Andrea Ferretti è stato beccato da qualche tifoso ma ha la piena fiducia sia del tecnico che dei compagni. I bianconieri sabato anticipano alle 15 la gara in trasferta con il Trestina. Stesso risultato delle zebe del Real Forte Querceta a Gavorrano dove i ragazzi di Carlo Bresciani in formazione rimaneggiata per le assenze di Falchini e Massoni hanno pareggiato 0-0 in una gara con poche emozioni ed occasioni per sbloccare il risultato. Successo al buono riposo del Seravezza Pozzi 1-0 con il San Gimignano autore del gol del successo il solito Rodriguez che poi allo scadere della partita si è fatto espellere per doppia ammunizione. Il giocatore sta facendo la differenza, ha colpito addirittura anche un palo e quindi regala un'altra soddisfazione a mister Vangioni. Il basket, le mura, Lucca parte male, perde anche a Ragusa come a Vigarano. Le biancorosse sprofondano nei primi 15 minuti di partita sotto addirittura di 27 punti. Poi si accendono, arrivano a spaventare le padrone di casa riportandosi a meno 8 ma alla fine cedono sul 67 a 56. primo quarto da incubo per le biancorosse che non trovano mai la retina e mancano di intensità difensiva. Alla fine saranno solo 4 i punti a referto contro i 26 della formazione di casa. La partita delle biancorosse inizia con un contro break di 13 a 2 a fine secondo quarto. Lucca spinge e a 7 minuti e 50 secondi dal termine è 53 a 43. Non basta però perché il finale appunto è 67 a 56 in favore di Ragusa. La ginnastica, la Raffaello Motto si è piazzata al quarto posto nella seconda prova di Serie A 1 di ginnastica ritmica disputata sabato scorso a Desio in provincia di Monza. La società Via Regina ha totalizzato 95,25 punti. E infine il rugby, il nuovo successo del rugby Lucca nella trasferta a Pontedera contro i Bellari a Cappuccini. La squadra rossonera guidata da Matteo Giovannico nonostante assenze importanti ha centrato la terza vittoria consecutiva. Una partita esemplare che fa veleggiare Lucca al vertice della classifica. Dopo un primo tempo finito 0 a 0 la sfida si è sbloccata nella ripresa con la squadra di casa che si è portata sul 9 a 3. I lucchesi però sono stati i protagonisti di un grande recupero ribaltando il risultato e chiudendo sul 9 a 12. Adesso per i rossoneri c'è la domenica di riposo. Capitan Meia e compagni torneranno in campo al Romei il prossimo 18 novembre contro il Gambassi Rugby. È tutto anche per lo sport, adesso torniamo con la pubblicità e poi la terza e ultima parte del TG9.